Hello guys, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi posto la decklist del mio Chaos Zombie con il quale mi sono qualificato prima lo scorso ShowCon Tournament che è appunto un evento che organizziamo giù a sud, in questo caso formato Edison, e appunto sono riuscito a qualificarmi primo. Prima di continuare, se siete nuovi del canale, vi inviterei a iscrivervi appunto al canale caso che dovessero interessarvi contenuti retroformat come Edison e Tengu Plant principalmente dove posto decklist, unboxing e tutto, diciamo, inerente ai formati citati e spero in futuro di fare altre guide sui futuri formati. Comunque sia, allora, direi di cominciare con la lista. Diciamo che è uno dei mazzi secondo me che più apprezzo, non l'avevo mai giocato a Zombie prima d'ora, ed è uno dei mazzi che più apprezzo perché secondo me è super accessibile, è veramente molto forte, non è così ignorante, anzi dovete pensare un sacco su alcune giocate, e per l'appunto super accessibile. Quindi caso che dovessero interessarvi magari a questi tipi di mazzi, perché avete risorse economiche limitate e quant'altro, potrei fare qualche video se vi va bene riguardo ai, che ne so, tre mazzi secondo me più accessibili per Edison, lo budget, cioè qualcosa del genere. Per iniziare ho due tartarughe piramide e mono pomodoro, non la gioco a tre ma a due per questione di spazio, e il pomodoro diciamo secondo me è stata un'ottima opzione, al posto della terza almeno in questo caso. Appunto riusciamo a calare facilmente anche i zombie goblin, che ha giocata più forte, forse una delle giocate più forti che il mazzo può fare è zombie goblin kallius, che appunto poi andremo a vedere, ho solo un master zombie, anche se non mi dispiacerebbe portarla a due, però dato che gioco appunto una versione caos, ho un po' di problemi di spazio, tant'è che gioco anche a 41. Poi vabbè, Spade Reapers molto forte, Mezuki che è un must, e Plague Spreader zombie. Allora, poi iniziamo con la parte diciamo esterna al reparto zombie, gioco due diva, quindi è un diva caos zombie, due malisius che sono anche calabili grazie al pomodoro, poi reparto l'iceword nel gioco, una Laila e due Rico. Diciamo tre Rico secondo me erano un po' lentucci per quello che avevo in mente, mentre una Laila diciamo ci aiuta anche a togliersi da situazioni scomode, tant'è che appunto in uno dei turni che mi son trovato è stato contro custode di tumbe, quindi gli ho tolto la necrovalle al secondo game, mentre al primo per fortuna non è riuscito a vederla, quindi sono riuscito a giocare, a fare bene o male quello che volevo con il mazzo si suol dire. Poi appunto gioco due Caius, non tre perché gioco appunto uno stregone del caos, poi vabbè Sanghan per me è troppo forte e infine un Dad, un Gords e una Tragedia per quanto riguarda i mostri. Carte che avrei voluto giocare ma non ho trovato spazio, come si chiama? Il gemelli zombie, quello di livello 6 che secondo me non ne ha fatto male e sinceramente l'avrei giocato con piacere, ma appunto ho avuto un po' di complicanze con lo spazio. E niente, proseguiamo con le magie. Alla riparte magia abbiamo l'Allur, una ritorno dall'altra dimensione, due libri della vita che secondo me sono troppo forti, prima lo giocavo a uno, poi nei vari test ho deciso di portarlo a due e mi sono trovato decisamente molto molto bene ed è anche per questo che vorrei giocare il gemelli zombie. E' veramente molto forte, soprattutto anche contro Hiro, gli togli che ne so, risorse al cimitero per il target della fusione Miracolo, è forte contro, vabbè, praticamente gran parte del meta contro Drago, è fortissimo. Poi Tempesta Potente, il Tifone, la carica della Brigata e infine gioco sia il controllo della mente che controlla contro la mente, dato che abbiamo una certa, diciamo, un certo numero di tuner nel mazzo e sono soprattutto riciclabili. Altra carta che ora mi viene in mente e che avrei voluto giocare è appunto il Gale. Il Gale perché uno, ci potrebbe dare accesso al maestro armatura alla nera, due è un tuner, tre è di mezzare l'attacco di un mostro dell'avversario, quindi toglierci ciccioni non è affatto così male. Quindi probabilmente andrò a ricaricarvi questa lista in un altro video, farò dei test quando avrò ovviamente tempo. Altra carta che secondo me potrebbe essere interessante da vedere è almeno una Pot of Avaris, dato che appunto andiamo a millare e soprattutto per recuperare carte come il DAD o lo Stribune del Caos o i Caius, diciamo carte del genere, magari a toglierci anche un Malisius e mettercelo nel mazzo dopo che abbiamo usato sepoltura di un'altra dimensione e rifare la combo. Beh, ci sono tanti prove della carta ma anche altri contro, comunque sì, stavo dicendo bene, dato che potrebbe farvi briccare un po' la mano e rallentarvi un po' il mazzo, diciamo così è un po' più velocizzato. Il reparto trappola invece abbiamo tre esplosionali della Fenice, due bottomless, diciamo un po' sostanzioso questo reparto trappola per se non zombie, due bottomless che sono veramente forti, anche se potrebbe risultarvi una carta morta certe volte, però si è dimostrata, almeno per l'evento che ho fatto, per i mazzi che c'erano si è dimostrato molto molto forte, l'ho trovato sincrocat, anche gyro, diciamo i mazzi che soffrono del G-cup e del G-cup del bottomless ci stavano, quindi mi son trovato bene, anche se forse vorrei portarlo a uno, ma vediamo un po'. Poi ritorno nell'altra dimensione, ho deciso di giocare a di main, perché è secondo me una delle carte più forti che lo zombie ne può appunto abusare, solennone, mirror force, torrenziale, e poi l'ultima gioco una Call of the Haunted, che forse vorrei sostituire con un last shot, però diciamo come impostato il mazzo d'ora, direi che è anche abbastanza accessibile dal punto di vista economico. Diciamo che questa è stata l'ultima new entry, perché nei vari test un po' mi ha fatto briccare, devo essere sincero, quindi forse potrei anche giocare così, non lo so, al momento gioco a 41, però niente, è una carta molto forte, richiamo del posseduto in zombie, anche perché appunto abbiamo modo di riciclarci il nostro open zombie, i nostri tool, quindi evitare che il plug spreader vada direttamente dimosso per il suo effetto, abbiamo vari play grazie appunto alla carta. Infine l'extra deck abbiamo, vabbè, il chimero, tech classico, braccio arsenale, un doido magico, un catastor, poi MVP praticamente del torneo, lui è veramente fortissimo, mi ha fatto vincere praticamente il 70% delle partite, dato che andavo a negare robe, cioè vedere l'attivazione di robe, il goiogardia, birionak, lui, allora all'inizio lui non lo giocavo, poi mi sono detto cavolo, cioè lo zombie diciamo conta un sacco sul livello 6, e lui praticamente vi fa fare quasi danni gratis, potremmo definire in battle, è un 2100, infligge danni ai mosti in difesa, quindi infligge lo stesso danni, e non è affatto male, poi vabbè, drago imperatore del caos, black rose, dark and dragon, anche lui molto forte, lui praticamente l'ho calato quasi sempre, poi colossal fighter, lo stardust e il mist vorm, ed infine per la side abbiamo, due cyber dragon, un po' spicy la mia side, però vabbè, due dd crow, due rayo, due nobiluomini, troppo 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 forti, li ho beccati quasi sempre quando sono andato a sidare, quindi sì, un po' di culo, e praticamente ho vinto grazie a questi, poi il mio corpo come scuro, mi pare sia in italiano, è fortissima, e soprattutto, io la uso anche contro hero, che non mi dispiace, contro l'absoluto zero, che veramente mi dà sui nervi, poi gioco due prison, ho deciso di giocarli di side, due dust tornado, la starlight root, e uno specchio dei giuramenti, che è una carta che non si vede troppo spesso, nei mazzi, ma per me è molto forte, forte contro gb, forte contro synchro cat, tutto ciò che diciamo, evoca dal mazzo, è come se fosse una sorta di potromestrap hole, che però non rimuove i mostri vocati, però vi permette di negare, no scusate, no di negare, di distruggere quei mostri, e di pescare una carta, quindi non è affatto male come carta. Io vi ringrazio di aver guardato il video fino a questo punto ragazzuoli, sempre un grazie per i commenti, mi piace che mi date, che mi fanno sempre un sacco piacere, mi motivano ad andare avanti, vedete questo secondo me è un mazzo molto accessibile, molto forte soprattutto, ho messo lì al centro, dato che appunto è stato l'MVP del torneo, o meno per le partite che ho fatto, e niente, il prossimo video sarà probabilmente l'apertura della collezione leggendaria al 25esimo anniversario, sperando che diciamo arrivi il giorno dell'uscita, lo so che molti l'hanno avuta in anteprima, però appunto a me farebbe piacere aprirla, assieme a voi. Detto questo, quindi i prossimi video saranno come appunto detto, credo, dell'unboxing, e appena sarà porterò la decklist, probabilmente lo Plus Dragon, visto che dai sondaggi che sto facendo è abbastanza richiesta, è sempre lì che sta per, diciamo, essere postata, però vince sempre un'altra decklist, dopodiché farò quella, e poi probabilmente penso il Chaos Quick Draw, che è anche un mazzo che ha la mia classica tech, che chi conosce il canale sa benissimo di cosa, può immaginare anzi di cosa si tratti, e la sfrutto al meglio in quel mazzo. Quindi, grazie ancora per aver guardato il video fino a questo punto, vi ricordo sempre la Gilda Store qui sotto in descrizione, quindi controllate il link, roba varie, se volete codici sconto, guadagnare 2 euro gratuitamente su Cartrader, e arrivederci al prossimo video. See you next time.